Sì, Renato Rina, allora molte persone fanno i video di cosa hanno ricevuto per il compleanno tutti sapete che ho fatto una lista Amazon ma nessuno a quanto pare l'ha vista specialmente i miei perché l'ho fatta per loro ovvero che mi sia fatta comunque perché ce l'avevo fatta perché così avessero avuto uno spunto ma non mi hanno preso niente da una lista Amazon però cosa ho ricevuto io? Non immaginatevi chissà che cosa 5 persone mi hanno regalato dei soldi quindi se ho un desiderio della mia lista Amazon la posso benissimamente comprare quindi non vi mostro i soldi giustamente e poi ho ricevuto altre due cose la prima in assoluto è questo profumo il Momo Design si chiama devo dire che è maschile ma è abbastanza forte tutti sanno che io preferisco i profumi femminili quelli un po' più dolci però questo non è malaccio tutto sommato perché ha un sapore molto speziato non riesco ad uscire più è tipo enorme quindi buono anche la scatola è veramente carina questa forma fallica e niente si apre per così si spruzza io ho già comunque mi ricordo più che ho bisogno di fare e per l'appunto ha un comodo molto forte molto molto forte comunque è buono scusate questo rumore ma è praticamente il motore dell'acqua perché a Palermo ne viene una merda di acqua ovvero ne viene pochissima e poi ultima cosa breve ma intensa qua dentro ci stanno i soldi questo di qua che adoro che è dell'Invicta che è una tracolla che io questo utilizzo moltissimo infatti ne ho un'altra che io metto così invece di tutta per intera perché comunque potete regolarla da qui che potete vedere però sì dai io preferisco metterla diciamo così come se fosse una borsetta infatti quando ero andata in Spagna a Madrid ne avevo un'altra sempre regalata alla stessa persona e mi ha dato la vita perché io qua dentro ci mettevo telefono portafoglio il profumo tipo quello portatile piccolino di tutto e di più quindi li trovo queste comodissime poi anche un colore che a me piace blu tipo ginsato adoro questi sono stati i miei regali non vi faccio vedere giustamente i soldi però se farò qualche acquisto pazzo o prenderò qualcosa della mia lista Amazon che vi lascio sempre qua sotto insieme ai posti dove potete trovare non so perché mi fanno utile questo profumo e quindi niente ve lo farò comunque vedere e niente io vi mando un mega bacio ci vediamo il prossimo video so che ho ricevuto poche cose a parte comunque soldi però alla fine con i soldi posso comprarmi quello che voglio e alle volte li preferisco per l'appunto perché perlomeno io so i miei gusti e vado a prendermi quello che mi va e niente fatemi sapere se vi sono piaciute queste due cose io vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video comunque a me piacciono queste tipologie di video perché perlomeno potete vedere cose diverse per regalare magari ai vostri amici e parenti eccetera eccetera per darvi uno spunto ecco e niente ci vediamo giovedì con il prossimo video e anche domenica ciao ciao